La sicurezza, perché siccome molti commercianti denunciano che la sera, anche dopo la chiusura, non c'è controllo, sono preoccupati perché anche dopo la chiusura dei locali, anche qua per esempio a Porta Venezia c'è una situazione difficile, mancano questi controlli, cosa bisogna fare? Questa è una battaglia storica di Fratelli Italia, sulla quale Riccardo Decorato e i simbiosi con Luca troverà certamente le migliori situazioni. No, no, è bello la pluralità delle voci, perché noi siamo insieme. La cosa importante è intanto un ringraziamento sempre, l'ho detto anche l'altro giorno e se lo dico sempre in tempi non sospetti ai miei convegni, grazie alle forze dell'ordine, grazie agli uomini e alle donne della polizia locale che invece che voleva stare a casa durante il Covid dovevano uscire e non gli è stato permesso, ma questa è un'altra cosa, provvederemo anche questa. Bene, oggi i dati della criminalità sono sicuramente in riduzione, perché i dati li conoscete, ma il problema vero è che la percezione della non sicurezza sembra per le persone per sempre ed invincibile. Noi questo lo combatteremo. Servono più vigili, Bernardo? Servono più persone per la strada.